Stato è un anno importante perché è da 20 anni che siamo in partnership con NIDEC per i sistemi di molatura in esclusiva e per gli accessori legati al laboratorio. Al Mido presentiamo una gamma di strumenti molto ampia che parte dalle entry level della strumentazione oftalmica che è l'LM500, un frontifocometro di prima entrata che è bellissimo. Arrivando fino al 1800, PD che è uno strumento di alta tecnologia, un frontifocometro molto professionale e soprattutto che fa delle cose a livello, delle misurazioni particolari quasi a livello industriale. Quindi abbiamo ampliato il nostro catalogo con frontifocometri, i forotteri, gli autorefrattometri, insomma tutto ciò che serve all'ottico, perché noi è di questo che ci occupiamo, che serve all'ottico per completare la visita e poi effettuare, consegnare il prodotto finito. Mentre poi parliamo di molatrici e parliamo della new entry, la LE700 che è anche stata premiata come molatrice che è un tutto in uno, ha un prezzo decisamente conveniente e che fa tutte le applicazioni di una macchina di qualità superiore. NIDEX si presenta al mercato anche con un'ampia gamma di macchine industriali a partire dalla SE 990 Supra alla X-Trimer, fresa industriale, novità di quest'anno, presentata con un sistema robotizzato per il carico delle lenti automatico, un carico verticale o un carico orizzontale. Grazie. Grazie.